Adesso io per esempio volevo mettere il regalo verde, volevo mettere dentro il dalmata e invece ho trovato dentro il frigolifero nel mio regalo Te lo metto io il dalmata nel frigo, il dalmata nel frigo, ma puoi mettere il dalmata nel frigo No, è stato io Guarda, non me lo piazza, non me lo piazza a terra Perché è vuoto Come è buggato sta cazzo di mod A posto, aprì il mio regalo Ma perché do aprirlo? Ma perché do aprirlo? Oddio il dalmata Non funziona Aspettete, 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 Lu A me non va ragazzi Ma tu lo clicchi il tasto wrap sulla destra? Dopo che ho messo l'oggetto? Che è il tastone da preme? Ah no Vabbè, dai Lu L' hai messo il dalmata? Sì, quello è il dalmata, l'ho già messo, ho già messo Che figata Allora poi metto Poi che cosa Vai Allora aspetta Le tendine Vai Allora aspetta E non ci sono i tappeti L'albero di Natale Perché quello che abbiamo fa schifo Ma è uguale Stai sento è bellissimo Vai Lu Vai Lu Va bene dai micchia Lu Quanti cazzi di regali vuoi aprire Lu Beh in effetti è vero Tu c'hai 450.000 iscritti Io ne ho 100.000 Possiamo mettere 500.000 regali Basta Dai vanno bene Quanti sono? 3, 3, 6, 7, 8 Tu vanno bene dai Vai cominciamo a reccare Lu Stavolta mi stai venendo a fare dell'inventario Per la prima volta Facciamo Facciamo che tu Io registro Tu raccogli i regali Li piazza a terra Vai Eh? Che cosa migliore? Vai 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 Sì 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 Vai 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 Li piazziamo qua in giardino Allora andiamo in casa Per fare il vlog Poi usciamo Di giro la buco pro Vai Registro Registra Siamo sul divano? Eh no Tu devi cominciare Eh boh boh Per regali Vai 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 io ti do accordo Dove sei? Eh come dove sono? Lu che? Sono qui Dove mi metto? Sono sul divano? Vai io sono in cucina Vai Tre Senza go pro allora Come senza go pro? Mi dipendo direttamente così E corro E tu mi dici Finisci la con quella go pro Così gli diamo un senso A questa vita Vai 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 Tre Due Uno Non era Era un tronco E poi ho finito il video E anche iniziata a piovere Penso un po' Perché E minecraft è triste Lo Peppo scena triste Scena triste Vai Riprendimi mentre Mi abbasso E me ne vado mentre piove Ci sei? Vai in F1 Vai Vai Stai registrando? Sì Fino a casa Poi chiudo le porte Vai Adesso metto la musica Chiudo le porte in faccia Vieni vieni Lasta Finito Aspetta Richiudile Passami attraverso Ah ok Fai la scena Vai E vai sulla sinistra o destra Bellissimo 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 Ragazzi Questo qua era il backstage Di quello che succede Durante Questi piccoli vlog Bastarmi De no Pilissimo ordalo Ringissimo Grazie a tutti Dio Keroriginal